E' arrivata solo ieri in città Michela Lattarulo e da stamattina si è insediata in prefettura. Ha indicato la strada da seguire, che è quella di puntare alla coesione tra le istituzioni e al supporto degli enti locali. La sicurezza e la tutela della legalità avranno la massima attenzione, ha assicurato Lattarulo che questo pomeriggio ha incontrato la stampa. Non solo sicurezza però, con la nuova prefetto di Campobasso abbiamo parlato anche di accoglienza e di vertenze aperte. Dottoressa Lattarulo, quali le priorità? Sono tanti tavoli aperti, in primis quello della sanità. Allora guardi, io ho avviato oggi i primi incontri istituzionali che continueranno nei prossimi giorni. Questi incontri mi servono per avere il quadro complessivo della situazione del territorio, per quindi venire a conoscenza dei problemi e stabilire le priorità. Quindi sicuramente in questo contesto affronterò anche il tema della sanità. Il Monizio è una terra che si sta spopolando. In questo senso l'accoglienza può essere anche un'arma per la lotta allo spopolamento? L'accoglienza è sicuramente un tema che va affrontato innanzitutto con le istituzioni territoriali per fare sì che diventi un'opportunità. Dipende anche dall'azione che viene svolta intorno a questo tema. Sicuramente noi ci impegneremo in questo senso. Monizio è anche terra di anziani. La Prefettura in questo senso può avere un compito per agevolare la lotta alle truffe per gli anziani? La Prefettura ha già fatto molto su questo tema, che è sicuramente un tema sensibile, sul quale l'impegno della Prefettura continuerà nella direzione del supporto e del sostegno con iniziative a tutto campo.